Si è svolto nei giorni scorsi a Ginevra il World Investment Forum, un grande avvenimento che ha avuto luogo nella sede ginevrina delle Nazioni Unite, durante il quale si sono riuniti migliaia di persone provenienti da tutte le parti del mondo, vi erano politici, rappresentanti di governo e vi erano uomini d'affari, persone che sono impegnate negli investimenti, evidentemente gli investimenti sono importanti per promuovere lo sviluppo, in tale contesto si è stata esaminata soprattutto la necessità di promuovere per il futuro investimenti con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle zone più povere del mondo ed evidentemente l'accento particolare non poteva non cadere sull'Africa. A riguardo va detto che è stato organizzato anche un workshop, un gruppo di lavoro al quale ho potuto partecipare anch'io dando il mio contributo, durante il quale è stata esaminata l'opportunità di realizzare una rete di business school dette business school for impact, cioè delle business school le quali producano dei giovani, i quali siano preparati per favorire lo sviluppo economico appunto nelle zone più disagiate del mondo. Un'attenzione molto particolare che è stata posta dalle Nazioni Unite su questo obiettivo considerando le gravi difficoltà che stiamo incontrando nel mondo in termini generali per quanto riguarda la necessità di includere nella società anche le popolazioni più emarginate. Va detto che Ginevra rappresenta una sede molto importante delle Nazioni Unite, sappiamo che le Nazioni Unite le conosciamo soprattutto per il grande palazzo di vetro che vediamo spesso a televisione a New York, ma anche a Ginevra c'è una sede molto importante delle Nazioni Unite. Gli addetti al lavoro dicono, hanno un po' uno slogan il quale dice che Ginevra is the kitchen and New York is the dining room, cioè Ginevra è la cucina dove si confezionano, si preparano le idee e poi a New York si riuniscono nella dining room, nella sala da pranzo per esaminare queste proposte e cercare di metterle in pratica. Evidentemente l'Unione Europea è partecipe di queste iniziative, è grandemente interessata a ciò che si svolge nelle Nazioni Unite, infatti in base al trattato sull'Unione Europea i rappresentanti degli Stati membri che sono anche parte delle Nazioni Unite sono impegnati a difendere quelli che sono gli obiettivi che possono posti alla base del processo di integrazione europea, gli obiettivi dell'Unione Europea. Gli stessi rappresentanti sono poi tenuti ad operare nel rispetto dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite che è stata approvata nel 1945 a Ginevra dai 51 Stati originari delle Nazioni Unite dell'ONU.